Ancora un incidente mortale sulla vittoria Scoglitti, ieri sera un uomo di 42 anni, Lirio Caracozzo, è finito con la sua moto contro un palo mentre era all'altezza di Contrada Valseca. Un ladro seriale è stato arrestato dalla Polizia di Stato Squadra Mobile per aver rubato negli uffici della Procura di Ragusa, ad incastrarlo le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Dovrebbero essere già un ricordo, invece in Sicilia le province continuano ad esistere e ad alimentare una perdita che tocca oggi 184 milioni di euro, diversa la situazione nel resto d'Italia. Presentati ieri i due nuovi voli che partiranno da Comise e collegheranno il Piola Torre a Bergamo e Parma, i dettagli sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa nella sede Soaco. La senatrice del PD venera Padua sollecita e il governatore procetta a riaprire i bandi relativi all'edilizia scolastica. La Sicilia è l'area eblea, dice la Padua, ha partecipato solo in minima parte. Ben trovati all'appuntamento con la nostra informazione che oggi apriamo con la cronaca. Incidente mortale ieri sera sulla vittoria Scoglitti. Un uomo di 42 anni, Lirio Caracozzo, è finito con la sua moto contro un pale incontrato a Valseca. Inutili i tentativi del 118 di rianimarlo. Ancora un incidente mortale lungo la vittoria Scoglitti a perdere la vita. Lirio Caracozzo, 42 anni, nato in Germania, ma da tempo residente a Vittoria. Per causa ancora in via di accertamento, con la moto sulla quale viaggiava una Suzuki, si è data a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione all'altezza di Contrada Valseca. Aveva da poco smontato la stazione di servizio di cui era anche il titolare, ubicata lungo la stessa arteria. Il primo ad accorgersi dell'incidente pare sia stato un automobilista di passaggio che ha dato subito l'allarme. Sul posto sono arrivati quindi, in poco tempo, il 118, una pattuglia di vigili urbani. L'uomo è stato così caricato sull'ambulanza, da chiarire se era ancora in vita, e trasportato in ospedale. Per lui non c'è stato però nulla da fare, come sono anche da chiarire le cause del sinistro. Un ostacolo improvviso sulla direzione di marcia, o un malore che avrebbe costretto il motociclista ad una brusca manovra. Interrogativi che potranno essere sciolti dopo le verifiche tecniche sul logo dell'incidente, effettuate dagli agenti dell'infortunistica, mentre sono state raccolte anche testimonianze da parte di chi avrebbe assistito alla scena. Il traffico per qualche ora è stato rallentato. Lirio Caracozzo lascia la moglie e tre figli. Un ladro seriale è stato arrestato dalla Polizia di Stato Squadra Mobile per aver rubato negli uffici della Procura di Ragusa. A lui gli inquirenti sono giunti grazie alle immagini registrate dalle video-sorveglianza presenti appunto negli uffici. La Polizia di Stato Squadra Mobile ha arrestato Luciano Saglibene, ragusano di 27 anni, per furto aggravato e continuato, commessa ai danni di due dipendenti della Procura della Repubblica. Giovedì mattina, intorno alle 10, due dipendenti si assentavano dai loro uffici per pochi minuti. A loro rientra hanno trovato la borsa aperta ed il portafogli sparito. Immediatamente venivano avviate le indagini e coinvolti gli uffici investigativi per individuare l'autore del reato o gli autori del reato. Gli uomini della Polizia di Stato, avvisati dal Procuratore della Repubblica, si recavano subito presso gli uffici giudiziari per esaminare le immagini del sofisticato impianto di video-sorveglianza e da una prima analisi emergevano subito forti sospetti su Saglibene, soggetto che proprio la squadra mobile pochi mesi fa aveva già individuato in quanto responsabile di altri reati contro il patrimonio. L'esame delle immagini, anche grazie a speciali software di comparazione dei tratti somatici in uso alla Polizia di Stato, ha permesso di raccogliere sin da subito inconfutabili indizi di reato a carico dell'odierno arrestato. Gli uomini della squadra mobile stanno reesaminando altri video catturati da impianti di video-sorveglianza, valutando se è compatibile la persona del Saglibene con l'autore di altri reati commessi ai danni di altri uffici pubblici. Le indagini per risalire all'individuazione dell'autore del reato sono durate pochi minuti, ma quelle per la sua cattura alcune ore. L'uomo, come su solito fare, dopo aver commesso il reato spariva dalla circolazione non dando alcun segno di presenza neanche alla moglie o ad altri familiari. La sua individuazione non è stata semplice, difatti dopo ore di appostamento sotto casa e nei luoghi da lui frequentati, gli uomini della squadra volanti, avendo il sospetto di averlo intravisto, avvisavano i colleghi della squadra mobile che si portavano in zona e poco dopo, avendo contezza che si trattasse proprio di lui, Saglibene è stato bloccato e condotto in questura. È stato quindi arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Altri scafisti individuati dalla polizia giudiziaria, questa volta si tratta di due soggetti che avevano condotto il gommone con a bordo 113 clandestini giunto nei giorni scorsi a Pozzallo. Si tratta di un senegalese di 18 anni ed un gambiano di 27 anni. Salvano quindi a 12 gli scafisti individuati nel 2016. Nuova serie di misure di prevenzione adottate dalla Polizia di Stato a carico di persone ritenute dedite a commettere reati. In questo caso il questore ha emesso sei avvisi orali. La Polizia di Stato, nell'ambito delle attività di prevenzione delle condotte delituose sull'intero territorio provinciale, ha applicato alcune delle misure contenute nel Codice Antimafia in attuazione delle direttive impartite dal questore di Ragusa. Il personale della Polizia di Stato è in servizio presso l'Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Anticrimine della Questura. Nella settimana in corso ha concluso a tal proposito l'istruttoria di numerosi procedimenti amministrativi nei confronti di soggetti considerati socialmente pericolosi. Al termine il questore ha emesso tre avvisi orali nei confronti di altrettanti soggetti di 25, 39 e 31 anni nati in Romania, già più volte deferiti all'autorità giudiziaria dalla Polizia di Stato e di recente denunciati dagli agenti della sezione volanti per disturbo dell'occupazione e del riposo delle persone in concorso. Un avviso orale nei confronti di un soggetto di 19 anni nato a Comise il quale, oltre a essere gravato da segnalazioni di polizia per reati contro il patrimonio ed in materia di droga, è stato di recente tratto in arresto dai carabinieri di Ragusa ancora per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Un avviso orale nei confronti di un ragusano di 38 anni, più volte denunciato dalle forze di polizia per reati contro l'incolumità delle persone e per detenzione abusiva di armi, il quale è stato di recente arrestato dagli agenti della sezione volanti della Questura per lesioni personali aggravate in danno a discendenti e degli agenti intervenuti per sedare una lite in famiglia. Un avviso orale nei confronti di un soggetto di 45 anni nato in Romania, più volte denunciato dalla Polizia e dai carabinieri di Vittoria per reati contro il patrimonio Rissa, nonché per aver circolato a bordo di un'autovettura sottoposta a sequestro perché priva di assicurazione. Di recente è stato anche denunciato in stato di libertà dalla Polizia di Vittoria per tentato furto aggravato. Nell'ambito dei servizi in materia ambientale disposti sul territorio, il comando della Polizia Provinciale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha denunciato all'autorità giudiziaria due persone sorprese a trasportare un carico di rifiuti inerti senza le dovute autorizzazioni di legge. Lo smaltimento degli inerti, spiega il comandante Raffaele Falconieri, è un problema molto serio che investe tutto il nostro territorio ed è una delle cause principali delle discariche abusive. Nei prossimi giorni, aggiunge, definiremo un accordo di programma con le associazioni di categoria perché si possa definire lo smaltimento dei materiali misti da demolizione e costruzione. Dovrebbe essere già un ricordo e invece in Sicilia le province continuano ancora ad esistere ma soprattutto ad alimentare una perdita che tocca oggi 184 milioni di euro. Tutto questo mentre nel resto d'Italia l'abolizione è già una realtà. Il ritardo con cui la regione siciliana sta portando avanti la riforma delle province da sopprimere continua a creare allarmi nei conti e nell'isola si parla di un buco di 184 milioni come si evince da una relazione dell'assessorato regionale all'economia secondo la quale mente nel resto d'Italia l'abolizione è già una realtà. Nell'isola le province operano senza finanziamenti statali. Il caso è emerso dopo che l'assessorato all'istruzione ha chiesto alla Giunta di avviare un ricorso contro lo Stato per il taglio di alcuni finanziamenti destinati alle vecchie province. Si tratta di somme rilevanti. Da un lato la Sicilia non partecipa alla ripartizione dei fondi residui al settore perdendo così circa 400 milioni di acqui al 2021. Dall'altro lato è stato aumentato il contributo al risanamento della finanza pubblica cioè l'importo che le province siciliane devono versare allo Stato per coprire il deficit nazionale. Al netto di tutto ciò oggi le province ancora in vita hanno quindi un buco che si aggira intorno ai 184 milioni. Il problema, tanto per cambiare, è legato al ritardo con cui la Regione sta portando avanti la riforma delle province alla definitiva abolizione di questi enti col passaggio di competenza ad altre amministrazioni. Nel resto d'Italia come detto tutto ciò in realtà comporta che le province si sono svuotate di funzione e dunque di costi trasferendo il personale a comuni e altri enti. Qui invece si continua ad operare come prima pur non avendo appunti finanziamenti statali. Sopralluogo di amministratori dirigenti e tecnici del comune di Vittoria e dell'ex provincia per valutare la possibilità di un'accessione incomodato d'uso del palazzo Carfia al comune. L'immobile di proprietà del libero consorzio comunale che lo acquistò per destinarla ad ospitare la collezione etnografica Zarino. Le difficoltà economiche e di ordine burocratico non hanno permesso di realizzare questo progetto. Il comune di Vittoria ora ha chiesto di poterlo avere incomodato e da qui il sopralluogo. Con i prossimi giorni nel corso di una conferenza di servizio tra i due enti dovrebbe definirsi il passaggio dell'immobile. Continuano a definirsi percorsi politici in vista delle amministrative in programma Vittoria per la prossima primavera. Oggi è stato dato l'annuncio ufficiale relativo all'adesione del movimento politico sviluppo ebleo al progetto di Selami-Lacambi. Conferenza stampa stamani per il candidato sindaco del progetto Selami-Lacambi Giovanni Moscato. Come preannunciato sono state illustrate delle novità sostanziali in merito al progetto e l'aggregazione di nuove forze a sostegno del movimento. Durante l'incontro infatti è stato annunciato l'ingresso del movimento sviluppo ebleo. Ne è un degno rappresentante insieme al movimento sviluppo ebleo sono stati coerenti in questi anni sempre all'opposizione tra l'altro con Andrea ci accomuna anche una militanza politica nonché un'età comune quindi per me è un'alleanza fondamentale la gente ci ha chiesto questa alleanza perché è il momento di mandare via chi ha già amministrato e con grande responsabilità devo dire Andrea ha fatto un passo indietro anche nei confronti della sua candidatura per liberare una volta per tutta questa città e noi ripartiamo da qua dalla nostra generazione dalla nostra gente da uomini puliti da persone per bene da gente valida. È un patto importante un'alleanza che ha voluto fortemente la città i vittoriesi i giovani coloro i quali credono in un rinnovamento in un cambiamento reale del territorio della città la sinergia che abbiamo trovato con la coalizione di Moscato Sindaco ma con l'amico consigliere e collega Moscato ha sancito e sancisce ancora una volta la volontà e la voglia di cambiare radicalmente la prospettiva di questa città di questo territorio e quindi è un'alleanza che ritengo importante fondata su un patto generazionale fondata su elementi di impulso che devono dare al territorio e alla città noi ci crediamo e per questo siamo qui i giovani democratici in vista delle amministrative a vittoria lanciano come candidato Sindaco Fabio Nicosia ritengono infatti che all'interno del PD ci siano valide personalità e per diversi motivi la loro prima preferenza ricade però sul presidente del distretto pescaturismo in un documento di indirizzo in vista dall'Assemblea di domani alle maglie i giovani democratici ritengono che occorre coinvolgere la città in una grande fase di mobilitazione e progettare il nuovo programma di governo partendo da alcuni punti cardine sentiti dai cittadini in particolare l'attenzione alle periferie l'integrazione con gli stranieri le politiche giovanili e sociali partendo dai trasporti e dal sistema scolastico e ancora le politiche culturali da migliorare senza tralasciare il turismo alla luce di tutto ciò e sulla scelta della guida del prossimo ciclo amministrativo i giovani DEM ritengono pertanto che all'interno del PD ci siano valide personalità e per diversi motivi la loro prima preferenza ricade su Fabio Nicosia si tratta dicono di una persona carismatica e in grado di offrire motivazioni e collaborando col Gacchi Ibleo ha reso noti i nostri luoghi prodotti attraverso importanti canali internazionali pur esprimendo quindi le nostre prime riflessioni rilevano i giovani democratici e offrendo le lavori dell'Assemblea in programma domani come gruppo vogliamo precisare che non siamo chiusi a quest'unica prospettiva e che il manifestarsi di altre candidature ugualmente spendibili verrà attentamente considerato convinti che le varie proposte non siano concorrenziali fra loro ma bensì armoniche e pronti a collaborare nel prossimo futuro per lo sviluppo e il progresso della città Presentati ieri a Comiso due nuovi part charter che collegheranno Comiso a Bergamo e Parma i dettagli sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa Sono stati presentati nei locali soaco dell'aeroporto Piola Torre di Comiso i voli part charter fra lo scalo Casmeneo Bergamo e Parma che saranno operati con Mistral attraverso Air Partner società inglese quotata alla Borsa di Londra per conto del tour operator Tourgest T-Officin del turismo Nello specifico il volo Comiso-Parma sarà effettuato dal 9 giugno al 29 settembre 2016 mentre quello Comiso-Bergamo dall'11 giugno all'1 ottobre Il presidente della soaco Rosario Di Bennardo ha evidenziato l'attente e costante opera della società per rafforzare lo scalo scegliendo partner valutando rotte e creando un'importante rete di relazioni con gli interlocutori del settore che sta portando il Piola Torre a numeri di tutto rispetto come dimostrano i dati di traffico 2015 e segnatamente l'impennata natalizia Per il sindaco di Comiso Filippo Spataro l'aeroporto di Comiso sta andando non bene ma benissimo nonostante al suo riguardo sia diffuso l'atteggiamento di chi ritiene di poter dire tutto su tutto un po' come per il calcio Siamo un paese di commissari tecnici questo è noto ha detto ma in Sicilia ci stiamo anche scoprendo gestori di scale aerei ed esperti aeronautici singolare davvero Il sindaco Spataro ha proseguito notando come con i due nuovi collegamenti Comiso faccia Capolino in Emilia e confermi la sua presenza in Lombardia a riprova del fatto che ci si sta muovendo bene si capisce quando c'è una buona idea e quella presentata da Tourgesti lo è e porterà vantaggi sia a chi l'ha proposta che a chi l'ha accolta Il consigliere comunale di Vittoriello Cugnata assessore ai tributi e ai servizi demografici si è dimesso da consigliere comunale tale decisione ha spiegato viene responsabilmente presa a seguito di recenti condizioni fisiche stressanti che non mi permettono di espletare con il dovuto pieno impegno le due cariche istituzionali un grazie particolare al presidente Di Falco e al vice Lamarmora dice per l'egregio e imparziale lavoro svolto e auguri di buon lavoro al mio sostituto Ci fermiamo c'è la pubblicità a tra poco Riprendiamo la nostra informazione occupandoci di edilizia scolastica la senatrice del PD Venera Padua infatti sollecita il governatore Crocetta a riaprire i bandi la Sicilia e anche l'area eblea afferma la Padua ha partecipato solo in minima parte Il piano di edilizia scolastica fortemente voluto dalla presente al Consiglio Matorenza ha preso il via con le graduatorie già redatte vista che la scadenza era stata fissata col termine dal 31 marzo 2015 c'è però da segnalare afferma la senatrice del PD Venera Padua come la Sicilia non abbia partecipato se non in minima parte ai bandi in questione non avendo presentato in tempi relativi progetti stiamo parlando prosegue la Padua di finanziamenti a cui avrebbero potuto attingere gli enti locali per le indagini diagnostiche di elementi strutturali e non strutturali degli edifici scolastici o ancora la messa in sicurezza la manutenzione il decoro e il ripristino funzionale degli stessi edifici e ora siccome le graduatorie devono essere riviste dal MIUR prosegue la Padua e visto che la nostra isola non ha presentato progetti in maniera sufficiente sto sollecitando il governatore Crogetta alla riapertura dei bandi così da fare partecipare altri enti locali e altre scuole a impinguare quella graduatoria così scarna per quanto ci riguarda i fondi ci sono ancora tra l'altro considerato che non sono stati presentati molti progetti la senatrice del PD ha inoltre anche intenzione di chiedere al nuovo prefetto di Ragusa la convocazione di una conferenza dei servizi con la partecipazione dei sindaci della Reblea affinché sia loro prospettata la possibilità di recuperare buona parte dei fondi in questione Si è svolto ieri al Teatro Comunale un evento dedicato alla lettura dell'enciclica di Papa Francesco Laudato Si a promuovere l'incontro il Comune e il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale Promosso dal Comune di Vittoria e dal Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale e Gruppo di Vittoria si è svolto ieri sera al Teatro Comunale un dialogo attorno all'enciclica di Papa Francesco Laudato Si sulla cura della Casa Comune un evento che è stato posto come momento di lettura e riflessione pubblica rivolte alla cittadinanza vittoriese per conoscere un'opera di pensiero che è già diventato una pietra miliare del progresso umano Il Comune appunto si è fatto promotore di questa iniziativa con il Movimento Ecclesiale di Iniziativa Culturale per presentare alla cittadinanza quello che è un patrimonio culturale che va al di là appunto della confessione cattolica e noi riteniamo di fatti che Laudato Si sia una delle più grandi opere del pensiero contemporaneo ma forse forse anche moderno anche medievale anche classico antico in generale insomma pensiamo che sia veramente una grande espressione di pensiero che riesce a così a rivoluzionare il modo di concepire il rapporto con quella che il Papa appunto chiama la Casa Comune cioè il nostro ambiente il mondo della natura della realtà naturale e ci insegna a guardare criticamente ai danni che abbiamo arrecato sia alla natura alla realtà che ci circonda ma sia a noi stessi perché il danno il danno alla realtà è un danno alla società lo sport il calcio domani in promozione Nissa e Licata giocano in casa rispettivamente contro Macchitella Gela e Ravanusa sulla carta non dovrebbero esserci sorprese mentre all'aldo campo andrà in scena il derby tra Ragusa e Marina nel girone di promozione la Nissa dopo un periodo complicato è tornata nuovamente a fare la voce grossa dal meno 4 con Licata e passata nel giro di poche settimane più 8 ricacciando di nuovo indietro il giallo blu la capolista punta dunque a conservare o quantomeno amministrare questo cospicuo vantaggio e domani in casa contro il Macchitella Gela non dovrebbe avere grossi problemi così come d'altronde anche Licata che sempre in casa riceverà il Ravanusa in lotta esserci problemi per entrambe perché nulla di strano che domani classifichi il divario resti invariato di un certo interesse c'è poi la sfida tra Canicatti e Santa Croce in quanto in palio c'è un posto playoff per cui sono attesi 90 minuti di fuoco gli iblei sono staccati di 4 lunghezze ma non hanno nulla da perdere avendo in pratica raggiunto anticipatamente la salvezza e quindi se la possono giocare a viso aperto all'aldocampo intanto ritorna il derby con la marina anche questo uno sconto diretto in chiave playoff ma sta molto meglio il Ragusa a quota 30 contro invece i 25 punti dei Cugini c'è infatti troppa concorrenza e per la squadra della frazione ci vorrebbe a questo punto un miracolo per agganciare la griglia che conta chiudono Comi su Atletico Caltanissetta con il verde-arancio impegnato a scalare una vera e propria montagna Casteltermini Aragona e Atletico Gela New Team in prima categoria infine torna in campo lo Sport Eubea che affronterà in casa il Floridi a terza forza del campionato mentre il Vittoria va a caccia della decima contro il Canicattini in attesa ovviamente allo sconto diretto con la capolista I contenuti di una convenzione sottoscritta da Confcommercio e Fipe con l'ente di formazione Jobbing Center Ragusa ai fini della creazione di corsi specifici nell'ambito enogastronomico ma non solo saranno illustrati durante una conferenza stampa in programma lunedì 1 febbraio L'appuntamento si terrà a partire dalle 11.45 nella sede Ascom di Via Roma 212 a Ragusa all'incontro parteciperanno tra gli altri il presidente provinciale di Confcommercio Ragusa Sergio Magro e il presidente provinciale Fipe Ragusa Maurizio Tasca ci fermiamo ancora per qualche istante torniamo tra poco rientriamo per rivedere i fatti in primo piano Ancora un incidente mortale sulla Vittoria Scoglitti ieri sera un uomo di 42 anni Lirio Caracozzo è finito con la sua moto contro un palo mentre era all'altezza di Contrada Valseca aveva da poco smontato dal turno di lavoro alla stazione di servizio di cui era titolare che si trova lungo la stessa Contrada per causa ancora da accertare l'uomo è andato a sbattere contro un palo della pubblica illuminazione Un ladro seriale è stato arrestato dalla Polizia di Stato Squadra Mobile per aver rubato negli uffici della Procura di Ragusa ad incastrarlo le immagini delle telecamere di videosorveglianza Fingendo di girare per gli uffici l'uomo si è impossessato di due portafogli di proprietà di due dipendenti della Procura che si erano allontanati per pochi minuti L'uomo è stato subito identificato ed è stato arrestato qualche ora dopo Dovrebbe essere già un ricordo invece in Sicilia le province continuano ad esistere ad alimentare una perdita che tocca oggi 184 milioni di euro diversa la situazione nel resto d'Italia Il ritardo con il quale la regione siciliana sta portando avanti la riforma delle province continua quindi a creare allarme nei conti dato che si continua ad operare pur non avendo alcun tipo di finanziamento destinato ad hoc Presentati ieri due nuovi voli che partiranno da Comise e collegheranno il Piola Torre a Bergamo e Parma i dettagli sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa nella sede Soaco Il Comiso Parma sarà effettuato dal 9 giugno al 29 settembre mentre il Comiso Bergamo dall'11 giugno al 1 ottobre ad operare la Mistral attraverso Air Partner società inglese quotata alla Borsa di Londra per conto di Tourgesty Office La senatrice del PD venne alla Padua sollecita il governatore Crocetta a riaprire i bandi relativi all'edilizia scolastica la Sicilia e l'area eblea dice la Padua ha partecipato solo in minima parte Il piano d'edilizia voluto dal premier Renzi ha infatti preso il via con le graduatorie già redatte ma la Sicilia denuncia la senatrice del PD non ha partecipato se non in minima parte non avendo presentato i progetti in tempo è tutto grazie per l'attenzione e buon fine settimana